Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale. Oggi abbiamo un avviso importante da condividere con voi riguardo al meteo in Italia. Mario Giuliacci, esperto di meteorologia, ha lanciato un messaggio riguardante un'estate che si prospetterà a dir poco anomala. Andiamo a scoprirlo insieme. È troppo presto per cantare vittoria? Il caldo che abbiamo sperimentato a sprazzi nel recente weekend è solo temporaneo. Come ci aveva già avvertito, quest'anno avremo un maggio particolare. E non mancheranno altre giornate di freddo e maltempo. Tra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio, una corrente d'aria fredda proveniente dal nord Europa scenderà a sud, dando origine a temporali e causando un abbassamento delle temperature, soprattutto nelle regioni settentrionali. Sembrerebbe che l'estate del 2023 inizierà con qualche singhiozzo, molto diversa dal caldo eccezionale che abbiamo vissuto a maggio 2022. Quando i 30 gradi erano diffusi già dal 18-19 di quel mese. Non vogliamo dire che sarà un'estate fredda dal punto di vista climatologico. Infatti si prevede che sarà moderatamente sopra la media. Ma sarà comunque meno intensa rispetto a quelle degli anni precedenti. Sarà senz'altro molto meno estrema dell'incredibile estate del 2022. In breve, avremo comunque fasi calde, ma saranno decisamente più contenute e limitate rispetto all'estate dell'anno scorso. Queste saranno invece più in linea con la media storica e risulteranno meno estreme. Sarà quindi un'estate diversa e anomala rispetto a quelle che abbiamo sperimentato in passato. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime notizie meteo e per scoprire le previsioni più accurate. Grazie per averci seguito e preparatevi a un'estate anomala dal punto di vista meteorologico. Alla prossima!